Benvenuti presso il Pirotecnico, la storica attività di Taranto, sita in via Regina Elena 91, angolo quasi con via Mazzini, del Cavalier Gaetano Insogna e figlio Benito. E allora facciamo questa bella chiacchierata per capirne di più in materia di fuochi. Intanto parliamo dei requisiti per la vendita. I requisiti che bisogna avere noi come venditori di prodotti pirotecnici bisogna essere abilitati alla vendita dalla Commissione della Prefettura di Taranto. E' uno dei requisiti che bisogna fare degli esami che tutti quelli che devono vendere i prodotti devono essere consapevoli di ciò che danno ai clienti. Di cui tutti quelli che sono presenti in questo negozio siamo abilitati a tutto ciò. A chi si possono vendere? Allora possiamo vendere i nostri fuochi d'artificio a persone comunque che hanno una maggiore età o con il possesso di un porto d'armi o in base al prodotto con la maggiore età. Oltre a questo diamo la possibilità ai nostri clienti di scegliere un prodotto a modo per il loro bisogno. In senso che consigliamo il sito dove deve essere sparato il fuoco. Ovviamente diamo i consigli di come spararli. Ovviamente vediamo anche in base al prodotto se è fattibile quello che loro vogliono fare. Ovviamente noi diamo tutto il possibile dei consigli ai nostri clienti proprio per dare la massima serietà nel prodotto che noi vendiamo. Quello che diceva prima Benito i prodotti si suddividono in varie categorie. Le categorie sono in Quinta D, F2 e F3 per la motivazione come dicevo prima a chi bisogna venderli. In Quinta D sono prodotti di ex libera vendita fino alla maggiore età, competenza a persone che sanno fare tutto ciò. Dopodiché vendiamo anche i prodotti di Quinta C che sono in F2 a persone di maggiore età. Ora non serve più il porto d'armi per l'F2. Per l'F3 invece serve la vendita a persone che sono qualificati con un porto d'armi. Quindi bisogna scaricarli col porto d'armi. Parliamo dei controlli. Da chi vengono effettuati? I controlli del nostro materiale esplodente viene effettuato dalla squadra amministrativa di Tarno, cioè dalla Polizia di Stato. C'è ente competente e veramente qualificata. Che controlla se è marchiato o c'è, in PVC e tutto il resto. Automaticamente proprio per questa motivazione il nostro prodotto è destinato alla vendita del pubblico senza avere nessun tipo di problematiche. che significa durante il trasporto, se durante il nostro prodotto pirotecnico basta presentare lo scontrino, la provenienza che è regolare e non avere nessun tipo di problema. Quali consigli si sente di dare alla clientela? I clienti, come ho detto prima, vi consiglio di acquistare nei nostri locali qui del ditta di pirotecnico proprio per non avere problematiche durante gli acquisti e potete scegliere con tranquillità tutto quello che volete perché i nostri prodotti sono legittimi, come ho detto prima. E' il momento degli auguri. Arriva il Natale e arriva il Capodanno. Gli auguri di cuore li do alla squadra amministrativa, come ho detto prima di Taranto, al nostro dirigente della squadra amministrativa, che è una persona veramente qualificata e a modo e soprattutto a tutti i nostri clienti. Ma un saluto di cuore lo apporgo a tutte le persone speciali che in questa città ci hanno dato tanto in tutti questi anni per poterci qualificare e dare il modo di poterci farci conoscere. Un bacio a tutti, un buon Natale e veramente un inizio di un anno sperando buono.